Noi siamo quelli che non si arrendono, pungoliamo le istituzioni locali sempre e anche oggi, sebbene in maniera informale, abbiamo voluto incontrare un rappresentante della regione Abruzzo, in questo caso l'assessore Fioretti, ma non disdegniamo di incontrare di volta in volta l'assessore Febbo o magari prima o poi il presidente della regione Abruzzo. Questo per ricordargli che la trattativa nazionale di Mercatoni 1 evidentemente andrà a finire a trattative locali e noi ci vogliamo portare avanti con il lavoro, far sentire la nostra voce e soprattutto far interessare tutti gli attori locali, non ultimi anche il presidente della provincia, i sindaci, perché ogni possibilità non venga lasciata indietro. Purtroppo attualmente 1860, il purtroppo va perché in realtà eravamo 3.500 e alcuni li abbiamo persi per strada nel passaggio alla Cernon, quindi nel primo tentativo della prima amministrazione straordinaria di darci un futuro, abbiamo perso tanti colleghi. Noi che siamo rimasti tra i 1860 abbiamo perso ore di lavoro inizialmente, dopo nove mesi abbiamo perso anche il lavoro e siamo tornati in amministrazione straordinaria. Attualmente abbiamo una cassa integrazione purtroppo su un numero di ore inferiore rispetto a quello che era il nostro precedente contratto di lavoro e oggi siamo venuti a dire che abbiamo non solo bisogno del lavoro, ma anche di sapere quando avremo notizie perché tutti quanti ci stiamo guardando anche intorno per un possibile lavoro estivo. Grazie. Grazie. Grazie.